gentili telespettatori buona giornata bassetti che ormai conosciamo tutti presenza costante in televisione va contro il green pass questa misura politica dice così non va congelatelo oppure sarà un disastro dice così bassetti virologo in prima fila pro vaccinazioni per vaccinare il più possibile gli italiani dice qualcosa non torna c'è una parte significativa di persone che non si vaccinerà dice forse occorre pensare ad un green pass diverso alla francese in cui è previsto solo per i vaccinati o i guariti oppure così non serve meglio allora congelarlo per i luoghi di lavoro e ripartire tra un po di tempo non riesco a capire dove vuole qual è il tutto il discorso vediamo un po se è più chiaro dice un conto è usare il certificato al ristorante al teatro allo stadio ma per entrare al lavoro è diverso secondo me a questo punto è meglio che si decida per l'obbligo vaccinale perché così diventa un tamponificio mentre l'unico modo per avere la sicurezza è fare un tampone il giorno stesso due tre giorni dopo non è la stessa cosa e aumentano i rischi in vista della scadenza del 15 ottobre dove sarà introdotto questo venerdì obbligatorio per tutti i posti di lavoro le regioni hanno chiesto di portare a 72 ore la durata della validità dei test per l'ottenimento del certificato quindi bassetti che cosa vuole dire con tutto questo non possiamo aumentare la durata del tampone perché alla fine il tampone serve cioè il green pass serve per indurre a vaccinarsi quindi a questo punto se allunghiamo le 72 ore non serve più il green pass tanto vale toglierlo è tutto un discorso che va in circolo che si morde la coda infatti per bassetti dice il prolungamento rischia di far diventare questo strumento inutile sì ma il prolungamento non lo farà mai il governo salvini meloni e beppe grillo chiedono un allungamento del tampone e che sia gratis ma non faranno né uno nell'altro perché l'intento è che il tampone costi tanto gli italiani non se lo possano permettere e decidano di vaccinarsi per non perdere il lavoro dice ma il lavoro non si perde in realtà voi sapete benissimo che nel pubblico impiego il lavoro non te lo tolgono ma nel settore privato faranno di tutto per toglierlo facendo finta che la motivazione non è mica quella del green pass che non ce l'hai ecco chi chi lavora nel settore privato sa benissimo di che cosa sto parlando bassetti dice come al solito abbiamo fatto il green pass all'italiana mentre andava fatto alla francese lo tieni se ti vaccini se hai fatto la malattia e se hai problematiche vere così davvero non ha nessun senso quindi lui dice togliamo i tamponi praticamente puoi andare a lavorare se hai il green pass ma il green pass ce l'hai solo se sei vaccinato i tamponi visto che vogliono addirittura allungarli a 72 ore renderli gratis andava fatto alla francese via i tamponi puoi lavorare solo se sei vaccinato ecco questa è l'idea di di bassetti che molti condivideranno e molti non condivideranno ma lui dice abbiamo fatto il green pass all'italiana così dice non ha nessun senso continuare sarà solo un disastro perché non sappiamo fare 10 12 milioni di tamponi a settimana il sistema rischia di andare in crisi il green pass va rivisto perché così è fatto male ma secondo voi veramente si faranno 10 12 milioni di tamponi a settimana a pagamento veramente gli italiani andranno a pagare 15 euro a tampone perché se noi prendiamo una calcolatrice perché mi sembra a settimana e facciamo 12 milioni vediamo se ci sta nella calcolatrice 12 milioni per 15 euro vuol dire 180 milioni di euro a settimana pagherebbero gli italiani in un mese sarebbero come 756 milioni al mese quindi stiamo parlando di quasi un miliardo se facciamo conto 15 ottobre 15 novembre 15 dicembre per due mesi e mezzo abbiamo una spesa per gli italiani di un miliardo 890 milioni in tamponi cioè lo stato farebbe pagare realmente quasi due miliardi agli italiani di tamponi a 15 euro con quel finto prezzo calmirato perché li hanno abbassati da 22 a 15 quando i tamponi sono delle cose che costano qualche centesimo a produrli qualche centesimo vengono venduti con un ricarico spaventoso quindi una spesa di un miliardo 890 milioni siamo sicuri che gli italiani in due mesi e mezzo da adesso dal 15 ottobre al 31 dicembre spenderanno quasi due miliardi se li dividiamo su 60 milioni di italiani se dividiamo quel miliardo 890 milioni diviso 60 milioni di italiani facendo conto che tutti gli italiani fanno un tampon fanno dei tamponi quel un miliardo 890 lo dividiamo per 60 milioni venderebbe una spesa media per ogni italiano di 31 virgola 5 euro però fate conto che non sono 60 milioni quanti sono praticamente se voi fate il conto fate il conto così vediamo se me lo fa fare la calcolatrice un miliardo e 890 milioni diviso i lavoratori che non hanno il green pass cosa sono 4 milioni facciamo diviso 4 milioni troviamo una spesa di 472,5 euro per ogni lavoratore che non ha il la vaccinazione 472,5 euro in due mesi e mezzo facciamo diviso 2 mesi e mezzo 189 190 euro al mese cioè questi 4 milioni di non vaccinati spenderebbero secondo i calcoli 190 euro al mese per andare a lavorare per due mesi e mezzo con una spesa totale di 472 472 473 euro il totale poi moltiplicato fa quel miliardo 890 milioni succederà veramente questo non lo so realmente non so dopo il 15 di ottobre se queste 4 milioni di persone si presenteranno al lavoro con un tampone o si daranno malate in qualche modo è dottore c'ho mal di gola c'ho la febbre boh non lo so vedremo che cosa succederà perché è una situazione anomala non è mai successa prima vedremo vedremo che cosa succederà arrivederci a tutti e grazie 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 a tutti